Servire il guizzante Galvani che colpisce il ferro esterno. La Juventus va in vantaggio verso la fine del primo tempo. Ecco l'azione. Mauro per l'Audrup. Da questi Arash che anticipa Benini e insacca. Juventus in vantaggio per 1-0. Andiamo al secondo tempo. C'è un'azione personale di Galvani. Ancora lui, ma ancora fuori. Poi all'attacco i bianconeri. L'Audrup, De Agostini, respinge Gatta. Riprende Rush alto. Anzi, direi altissimo. Al quarto d'ora il raddoppio. Napoli che è entrato poco fa. Fallisce l'intervento Galvani. Pallone per Rush. Rush che non aveva ancora segnato prima di oggi nel nostro campionato. D'altro canto non aveva quasi giocato. 2-0 dunque. E qui al 31esimo De Agostini per Favero. La rete del difensore. Ed è 3-0. Poi accorcia le distanze il Pescara. Siamo al 36esimo. La punizione di Junior. Il Torino forse si pente di averlo ceduto. 3-0. 3-0.